Salve a tutti signori, bentornati sul mio canale, oggi siamo qui, tornati su Rainbow Six Age Mamma mia, non so se fare un'altra ranked dopo quelle di ieri perché non so neanche c'è che c***o devo dire porco Parla bene e usa l'educazione, è chiaro? Boh, se rincontro delle persone così in classificata giuro che sbrocco così male Che minchia, come ho detto nello scorso video, tutta la famiglia di Gesù Cristo non basta nominarla tutta Quindi con molta calma andiamo a fare subito una ranked e spero di vincerla Se no, se incontro in squadra altri rincoglioniti come quelli dell'altra volta Giuro che mi incazzo come un boia che taglia le tastiere Di merda I porco di un... Ma andate una f***a figlia di p***a Mi avete rotto il capo, ho trollato il classificata Ho mi bannato i main, ho ghillato gli alleati Ho rompito i coi, e avete rotto il c***o anche a me no Ma vaffan porco Uno di vita, uno di vita Dai uno di vita quello, questi che si fanno erare così Quello che c'ha le cuffie che vengono dalla giugoslavia tarocca Di che c***o stiamo parlando Mo mi prendo Ying e chi c***o mi trovo davanti lo distruggo Mo mi prendo Ying e chi c***o mi trovo davanti lo distruggo E allora Dio po- Eh vaffanculo però mai rotto il c***o Mo mi prendo Ying e chi c***o mi trovo davanti lo distruggo No vabbè Come c***o la fa che sapere che sto qua È genius Eh vabbè no, non ci posso credere Non ci posso credere, non ci posso credere Cioè provare ad accolterlaro da 40 metri di distanza Non ci posso credere No dovete andare proprio a fare in c***o Guarda mi sono preso Ash che è un c***o di fuoco rapido OP Se c***o mi incontro davanti cavera e non muovere Dio santo Ma vai a fare il c***o 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 Eh niente 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 Che c***o devo fare Niente niente Che c***o devo fare Ma vaffanculo Niente signori che dire Io mi sto rompendo il c***o Le sto perdendo tutte 0 a 4 Poi mi Cioè io gioco in classificata Cioè io ce l'ho le mani Come potete vedere non smiro Non smiro con le armi Sono tutti cancri di m***o Sono tutti figli di p***a Quelli nemici sono sempre forti In squadra incontro chi non collabora Chi non colla un c***o Chi non fa niente ecco Chi non sa giocare Invece contro Trovo quelli là che sanno giocare Perfetto Ora capite cosa significa giocare Come vi ho detto Nello scorso video Cosa significa giocare Da soli Primo E giocare a gradi bassi Perché si trova così Tu vuoi cercare di salire E' inutile Ma tanto Che c***o devo salire Che è finita la stagione Quindi non me ne frega più un c***o Va bene Detto questo Vi invito a lasciare Un like A condividere questo video E ovviamente Se non vi siete iscritti al canale Fatelo Perché io voglio vedere il 100 Appena arriviamo a 100 Ci sarà un bello speciale Sul rainbow E niente Confido in voi E vi mando un saluto Ci becchiamo al prossimo episodio Salve tutti signori Ciao